benvenuti al salotto alle 8 oggi ospite in studio don din don buonasera din don prega predi prego ed è grazie anche alla sua fede signor fedele non mi chiamo fedele sono qui per pregare per la fame nel mondo ho capito padre se vogliamo pregare preghiamo ma non è con le belle parole e le preghiere che si sazia la gente ci vuole il pane e poi uno senta le notizie i bambini di casa è normale che non si ingazza fate qualcosa preghiamo assieme preghiamo preghiamo padre don a riposo signore nostro fratello che fratele frate cittadano preghiamo si è addormentato amore e si concentra meno che assieme diciamo dio vieni tra noi e vedrete che dio arriverà dio vieni tra noi dio vieni tra noi su coraggio ancora un'altra volta dio vieni vieni tra noi con convinzione continuate a crederci di vieni tra noi san preghiamo si si a si vergogna